Buonasera a tutti, benvenuti alla serata del canto della balena mentre accende la luce Giulia, ecco, partiamo anche per la diretta allora stasera abbiamo l'onore di avere uno dei grandi chitarristi italiani e sono veramente contento perché è una serata particolare non mi senti? Si senti? Claudio mi senti? Te che sei cagionevole, mi senti? voglia che stai meglio? Quindi abbiamo, questa serata era in Tornei Svizzera con Bernato di cui è arrangiatore e produttore da anni ormai su internet c'è scritto da 15, in realtà sono 25 perché il tempo passa ma i dati non si aggiornano automaticamente per adesso quindi pur sembrando un ragazzino, sono già 25 anni che lavora con Bernato ma al di là di questo io ho insistito, gli ho rotto abbastanza le scatole per far venire qui, l'ho cercato più volte perché sono convinto sia davvero un chitarrista fantastico per me ipnotico, quindi sono contento in primis di averlo per me quindi vi chiedo un applauso per Giuseppe Scarpato quindi godetevi la serata, ricordatevi di guardare su Facebook il gruppo Il Canto e la Valena e gli eventi che faremo che saranno sempre delle good news Giuseppe tornerà altre volte, non ci ho detto, altre dieci giusto? bene, benvenuto grazie tutto quello che sentirete stasera è tutta colpa sua in realtà è la primissima volta proprio nella mia vita, ho 50 anni, quindi di anni li ho fatti sul palco che salgo da solo su un palco, in realtà di solito mi piace sempre suonare insieme agli altri per farvi capire, capite quanto rompo i coglioni io, da solo oltretutto, lo fate da solo che per me è fenomenale, io ve lo dico, ho esistito davvero solo per questo quindi è colpa mia, quello che succede è colpa mia, questa volta me la prendo momenti e quindi io aggiungo proprio prima di iniziare un accidenti a me scherzo, mica tanto e poi in realtà a me piace suonare la chitarra e basta, invece stasera mi sentirete anche cantare pensarei proprio è un disastro, uno dietro l'altro quindi per fare, come si dice, è una parola che non mi piace proprio, però mi piace recusarne un'altra tutto sto reverbero sembro il papa per sembrare figo mi sono portato tre chitarre perché dicevo almeno guarda la delizia, anzi deve essere bravo se c'è un'altra seguita in realtà no, io solo comprate e basta guarda la delizia, anzi deve essere bravo se c'è un'altra seguita attra direzione guarda la delizia, anzi deve essere bravo se c'è un'altra seguita l'aligramma attrazione attrazione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.